Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla statale 1 Aurelia strada chiusa per un veicolo in fiamme tra Scarlino Scalo e stazione di Gavorrano in direzione Roma. Rallentamenti per la chiusura della corsia di sorpasso a 2,7 km da Cecina Centro in direzione Roma. Rallentamenti per lavori a 1,2 km da Cecina Centro in direzione Nord. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola strada chiusa in entrambe le direzioni per lavori tra l'innesto con la statale 67 Bis e Fornacette. Il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana e sulla FIPI-Li. Infine per i treni circolazione e sospesa per investimento tra le stazioni di Serravalle e Pistoia. I treni della relazione Viareggio-Lucca-Firenze potranno subire ritardi fino a 120 minuti o cancellazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie e buon viaggio!